radiomagica presenta pimpa magica pimpa e l'orsetto in letargo vado a trovare l'orsetto ma l'orsetto sarà in letargo letargo vuol dire che dorme sì per tutto l'inverno corro a vedere se dorme ciao orsetto stai dormendo sì bugia perché mi hai risposto vuoi giocare un po' mmm dov'è la mia mamma la tua mamma sta dormendo bene allora posso alzarmi a cosa giochiamo? alla lotta coi cuscini bam boom tua mamma vuole che tu dorma tutto l'inverno sì ma non ci riesco come mai? dopo tre giorni non sogno più invece tua mamma dorme tutto l'inverno oh sì dorme come un ghiro mmm sento un profumino di torta di mele la torta è ancora calda chissà chi l'ha fatta orsetta impariamo l'is orsetto 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 adesso prova tu orsetto orsetto cuscino 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 adesso prova tu cuscino torta torta mamma 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 adesso prova tu mamma giochiamo l'is quale giusto torta cuscino cuscino quale giusto orsetto orsetto o 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 Tutte le storie nei formati audio, video lease e video CAA del progetto Pimpa Magica sono disponibili sul sito radiomagica.org